Siamo pronti e allora si va! E un leggero vantaggio Lunna in Bosa davanti a Little Power, Tusciara, River Cay, Voilà la profusione, White Flower, Nina Nosei e Demuela all'inizio della curva. E un leggero vantaggio Lunna in Bosa davanti a Little Power, River Cay, Tusciara, Voilà la profusione, poco prima dell'ingresso addirittura un vantaggio Lunna in Bosa davanti a River Cay, Tusciara e Rampufirrani. I cavalli entrano in dirittura con Lunna in Bosa in leggero vantaggio lungo la corda attaccata a centropista da River Cay, tra i due Tusciara, seguono Voilà la profusione, White Flower e sempre in leggero vantaggio Lunna in Bosa attaccata all'esterno da Rampufirran. Seguono Tusciara, Voilà la profusione, passa Rampufirran davanti a Tusciara, Voilà la profusione e Lunna in Bosa. Rampufirran è l'ultimo vincitore di questo pomeriggio, l'ipodromo delle Capanelle. E' il suo numero nove e in sella Francesco Dettori, la quota è di 7,9, quindi appoggiata al betting. Rampufirran.